Musica Puntano il dito contro la mancata riassunzione di alcuni dipendenti addetti ai servizi di mensa comunale i due consiglieri di centro-sinistra Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci che criticano duramente le scelte dell'amministrazione Spazzafumo e parlano esplicitamente di definitiva privatizzazione. L'amministrazione comunale ormai ha portato a termine il percorso di privatizzazione che l'anno scorso avevano presentato come sperimentazione alla quale sarebbe eseguito un approfondimento in commissione sui risultati. Questo approfondimento non c'è stato, ad oggi non sappiamo quali sono stati i risultati né per quanto riguarda il servizio e quindi gli utenti né per quanto riguarda il personale. nonostante quindi senza dati si è deciso di portare a termine il percorso e di privatizzare a partire da quest'anno tutte le menze. Qui nasce un secondo problema sollevato dai sindacati. Qual è? L'amministrazione l'anno scorso aveva preso ufficialmente l'impegno attraverso consiglieri e assessori che avrebbero tutelato il personale che da anni lavora per le menze. Chiaramente una tutela che non gli spetta da contratto ma comunque c'era un impegno da parte del comune. Oggi uscite le liste dei dipendenti, questo impegno è evidente che non è stato rispettato. Le scelte sono cadute anche su persone che hanno lavorato per pochissimi mesi per le menze. Chi ha lavorato per più tempo invece non è stato tutelato o non è stato confermato negli orari o nelle qualifiche e quindi noi contestiamo e denunciamo il non rispetto di un impegno forte che l'amministrazione aveva preso e per questo abbiamo presentato anche un'interrogazione insieme con la consigliera Aurora Bottiglieri. Aurora Bottiglieri precisa che il numero di mancati lavoratori confermati raggiunge la cifra di 20 unità. Mancherebbero inoltre comunicazioni sulla qualità del servizio. Le nostre perplessità erano su altre situazioni, cioè sul fatto che tutto quello che è stato promesso come già detto dal consigliere Canducci sia in una precedente commissione che durante un consiglio comunale di tutela sociale dei lavoratori che è vero che sono a tempo determinato e quindi non hanno, dal punto di vista contrattuale, possono anche non essere riconfermati. Però la tutela sociale dei lavoratori che hanno lavorato nelle menze per tanto tempo ci doveva essere. Era stata promessa e invece dagli elenchi che abbiamo avuto, anche dai rapporti con i sindacati che noi abbiamo, questa tutela per almeno 20 di loro non c'è stata. E questo secondo noi, secondo me, è una situazione incresciosa, se vogliamo dire, che non difendibile e non è corretta nei confronti dei lavoratori.